Io sono Piero Garnero, vicepresidente e segretario della società operaia agricola di mutuo soccorso Bibiana Fenile. La società è stata fondata l'8 novembre del 1873, è stata fondata da un insieme di agricoltori, di contadini e di operai essenzialmente per un problema, chiamiamolo proprio, lo dice la parola stessa, di aiuto reciproco e di mutuo soccorso tenendo conto delle condizioni economiche che c'erano allora sia nell'ambiente operaio che in ambiente agricolo. La società è nata con gli scopi precisi di aiutare i soci, da noi si diventava soci tramite un'iscrizione, i soci pagavano una certa cifra che io adesso non mi ricordo, mensile e diventavano da quel momento lì soci. La società sin dall'inizio è stata amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 8 persone più un presidente e un collegio sindacale dei revisori dei conti che controllava il rispetto dello statuto e che venissero rispettate tutte le normative previste dallo statuto stesso. Il consiglio di amministrazione durava in carica, il meccanismo è un po' particolare perché durava in carica due anni, però ogni due anni veniva sostituito un 50%, quindi su otto componenti venivano sostituiti quattro, l'anno successivo veniva sostituito l'altro 50%. Il presidente durava in carica tre anni e i consiglieri di amministrazione, di revisori dei conti duravano in carica anche loro tre anni. Fin dall'inizio la società aveva una sede e aveva un magazzino dove venivano approvvigionate delle derrate alimentari e poi aveva un negozio dove veniva ceduto ai soci a prezzo di costo tutte le derrate alimentari più importanti necessarie per il sostentamento e per la vita. C'era anche la consuetudine, si comprava il vino all'ingrosso per i soci e veniva distribuito allo stesso prezzo di costo che veniva comprato. Questa cosa qui il negozio è andato avanti fino agli anni 85-90, adesso io l'hanno preciso non me lo ricordo, io sono entrato, sono stato iscritto in società dal 93, però ho avuto contatti, conoscevo già da prima i presidenti e tutto e dalla storia che mi hanno tramandato so che mi ricordo ancora io quando c'era il negozio che poi è stato chiuso e da quella data lì in avanti la società aveva solo più come ha tuttora un bar ristorante che viene ceduto in appalto, viene fatto l'appalto praticamente ad un affitto di azienda e questa cosa qui ci paga l'affitto mensile al consiglio di amministrazione ed è quello che ci permette di sopravvivere. Negli anni, poi la sede della società naturalmente comprende i locali affittati e poi c'è due stanze che servono come sala riunioni della società e come archivio storico della società stessa. Nel 2012 c'è stato un grande rifacimento dei locali perché era stata cambiata la gestione e quindi proprio per problemi di rispetto delle normative ASL eccetera si è dovuto fare tutta una serie di lavori e la società aveva diciamo un buon residuo di cassa praticamente in quel momento lì si è stato azzerato perché abbiamo speso 20.000 euro. Adesso abbiamo, non per dire, ma abbiamo dei locali bellissimi e adesso è di nuovo un periodo che va avanti abbastanza bene. Abbiamo sofferto molto durante il periodo del Covid perché naturalmente i locali erano chiusi, non si poteva fare niente e poi abbiamo avuto anche un periodo disgraziato di un gestore che per due o tre anni non ci ha pagato l'affitto e però noi comunque in quel periodo lì dovevamo comunque pagare le utenze, noi dobbiamo pagare comunque l'Imu al comune, paghiamo più di 1.000 euro all'anno di Imu perché comunque loro ci dicono che c'è un'attività commerciale, anche se per noi l'attività commerciale è quella che ci permette la sopravvivenza e adesso poco per volta abbiamo trovato questo nuovo gestore che va abbastanza bene però poi comunque teniamo conto che comunque anche già solo le spese di manutenzione straordinaria sia dei locali che delle attrezzature praticamente è difficile riuscire a farci un residuo di cassa perché di spese ce ne sono. però la partecipazione dei soci adesso l'attività che facciamo è ridotta al lumicino perché da quando mi ricordo io che sono entrato io l'attività principale al di là delle riunioni del consiglio dell'amministrazione, delle assemblee, facciamo due assemblee sociali, una a marzo e una a novembre dove si fanno il pranzo sociale e il pranzo degli anziani, il pranzo degli anziani venivano premiati i soci che praticamente andavano in pensione. Diciamo l'attività della società è sempre stata quella di praticamente al di là dei dei pranzi di quelle ricorrenze dell'assemblea sociale si facevano delle gite per soci e per non iscritti e devo dire che le gite fino a quando le abbiamo siamo inscritti a organizzarle hanno sempre avuto una buonissima una buonissima risposta. Abbiamo fatto anche delle gite importanti siamo andati anche siamo andati a parte Francia, in Austria, in Olanda e poi abbiamo girato un po tutta l'Italia. Diciamo l'attività al di fuori di quella è stata abbastanza minima. C'è nello scopo della società è previsto anche, poi chiamandosi di mutuo soccorso, erano previsti i sussidi per i soci in difficoltà. I soci che ci sono attualmente sono di due tipi, soci effettivi, anzi tre, effettivi, pensionati e aggregati. Gli effettivi sono qualsiasi persona normale che sia maggiorenne, quelli pensionati vanno in pensione o dopo 40 anni di iscrizione a qualsiasi età oppure dopo 20 anni di iscrizione a 65 anni. Poi ci sono le mogli, le compagni dei soci effettivi che sono soci aggregati e che pagano una tessera ridotta. Il costo della tessera normale è di 13 euro. Loro pagano una quota di 5 euro, partecipano all'attività però non hanno diritto di voto nell'assemblea e non possono essere eletti negli organismi, nel consiglio di amministrazione. Gli iscritti da quando mi ricordo io erano circa o superavano i 300 tra effettivi, pensionati e aggregati. Poi via via nel tempo sono diminuiti sia perché i soci avendo la maggioranza avevano già una certa età e quindi poco per volta morivano, oppure quelli che non si iscrivevano più e quindi si è sempre ridotto. Attualmente siamo un settantina, 65, 70 di effettivi, altrettanti di pensionati e una ventina di aggregati. Quindi in totale siamo intorno ai 150 soci attualmente. I soci che hanno fondato quella da quanto mi risulta erano persone normali, non persone di un certo livello, che si erano appunto aggregate per darsi un aiuto reciproco e per aiutare i soci che erano in difficoltà. La dimostrazione è il magazzino che era stato fondato e il meccanismo con cui venivano aiutati i soci e venivano distribuiti sia le derrate alimentari che il vino stesso. Di aiuto c'era anche quando la gente si ammalava, veniva dato anche un sussidio nei giorni in cui veniva ammalato tramite un controllo medico. C'era un medico che verificava le condizioni degli ammalati e sulla base di quello il consiglio di amministrazione decideva il contributo che doveva dare. Questo era per quanto riguardava il mutuo soccorso. Inoltre per i soci che erano in difficoltà o che magari dovevano sostenere delle spese straordinarie c'era la possibilità di dare dei sussidi che venivano dati di volta in volta sulla base della domanda del socio. Il consiglio di amministrazione facendo delle indagini e mandando comunque verificando l'effettiva necessità decideva o un sussidio a fondo perso per piccole somme oppure magari un prestito che poi veniva restituito senza interessi mi risulta man mano che il socio poi acquisiva la disponibilità. C'era l'aiuto dei sussidi qualora il socio si trovasse in difficoltà e quindi in quel caso lì veniva veniva aiutato. Nel 1985 è stata fondata una banda musicale, proprio banda musicale che veniva chiamata la banda musicale di società operaia perché poi la nostra si chiama società operaia agricola di mutuo soccorso Bibiana Fenile perché c'erano i due comuni insieme perché una volta Fenile faceva comune adesso fa parte del comune di Campiglione e la banda aveva assunto appunto quel nome lì ed è andata avanti fino al 1995-96 da quelle parti lì e poi ha avuto diverse evoluzioni questa banda che inizialmente venivano fatte solo musiche diciamo bandistiche e cose e poi un po' per volta si sono si sono evolute nel tempo e poi alla fine si era evolute in modo ed era diventata avevano cambiato nome perché era subentrato un maestro molto bravo e si chiamava Bandamania e facevano delle musiche non solo bandistiche ed era molto rinomata anche qui aveva fatto dei concerti qui un po' dappertutto poi anche lì per contrasti con con la direzione perché poi specialmente magari presidente o i consiglieri di amministrazione più anziani vedevano un po' di col fumo negli occhi questo tipo di musica e quindi volevano imporgli solo la musica all'altro il maestro e cose si sono stufati e hanno salutato la cosa quest'anno abbiamo in programma appunto di fare di festeggiare il centocinquantesimo in precedenza sono state festeggiate già i 120 140 eccetera e quest'anno ne abbiamo parlato dell'ultima riunione del consiglio di amministrazione abbiamo in programma di festeggiare il centocinquantesimo anniversario della della fondazione della della mutua orientativamente il periodo sarà verso il mese di adesso la data precisa di fondazione dell'otto novembre però noi pensavamo di farlo magari del mese di ottobre più o meno verso verso quella data lì lo scopo della società era proprio quello di aiutarsi vicendevolmente e i valori erano appunto mutualismo rispetto reciproco aiuto reciproco e attenzione particolare a quelli che ne avevano maggior bisogno e quindi lo scopo della società è sempre stato quello poi nel corso degli anni perché noi abbiamo dei casi io ho avuto dei casi che mi avevo informato che erano stati aiutati proprio con i sussidi appunto che abbiamo di mutualità oggi praticamente da quando mi ricordo io c'è stato solo un caso che abbiamo erogato un sussidio per un socio che doveva fare un'operazione straordinaria abbastanza costosa e non aveva i soldi oggi il discorso i valori nostri e di quelli che si iscrivono hanno comunque ben presente che continua a essere il mutuo soccorso l'aiuto eccetera eccetera oggi quelli che i soci purtroppo che lo stesso problema che hanno le altre società più o meno sentendo in giro è che ormai la quasi totalità dei nostri soci a una certa età è difficilissimo riuscire a trovare dei soci nuovi adesso combinazione quest'anno per un caso fortuito abbiamo fatto sette iscritti nuovi gli anni precedenti uno due eccetera però in base a quello che vi dicevo prima è che quest'anno per esempio il numero dei soci copre è lo stesso numero dei soci che sono morti quindi praticamente riusciamo a anche se quasi tutti i soci che sono mancati sono deceduti non pagavano più la tessera perché erano tutti i pensionati a non so se il meccanismo del del pensionamento era appunto che dopo quella quella quando andavano in pensione una volta il discorso era diverso perché si dava una pensione che era formata da 100 lire ogni anno di iscrizione alla società poi però c'era arrivato a un certo punto praticamente valevano pochissimi queste cose qui quindi segretario doveva fare l'uscita dal punto di vista della cassa poi tanti li lasciavano lì quindi bisognava di nuovo fare l'entrata c'era un sacco di lavoro in più e praticamente non aveva più poco senso allora abbiamo studiato un altro meccanismo nel pranzo degli anziani di novembre che noi facciamo premiamo i soci quelli che vanno in pensione e diamo una pergamena e gli paghiamo il pranzo a quelli che a quello che va in pensione a tutti gli altri pensionati nel pranzo degli anziani si fa uno sconto di 10 euro questo è quello che sostituisce la il meccanismo del del pensionamento attuale è quello grazie a tutti grazie a tutti